Ma già semplicemente fornendo delle armi di fatto ci siamo schierati e tra l'altro come diceva anche Alberto Negri cambiano anche le forme di ritorzione in qualche modo, il nemico ci ha già messo una croce sopra perché noi siamo passati dall'altra parte. Non può e non deve essere la fine del pacifismo nel senso che penso che sia scontato che l'obiettivo deve rimanere quello del fermare questa aggressione militare criminale e di quindi riportare la pace. Sul come naturalmente si persegue questo obiettivo la risoluzione di ieri ad esempio la citata Cattaneo aveva una serie di strumenti su cui penso che nessuno possa avere dubbi dal sostegno al popolo ucraino, ha naturalmente le azioni di assistenza umanitaria e finanziaria, sono state citate le sanzioni su cui c'è stata una forte compattezza, infatti la Russia si trova molto isolata. Poi ci arrivo ma anche attivare un programma straordinario sull'accoglienza su cui anche la nostra regione è in prima linea, stiamo già lavorando con prefetture e sindaci, oggi io stessa incontrerò alcune ONG che sono attive in loco in Ucraina, nostri partner per studiare altre azioni di interventi umanitari e ieri abbiamo anche avviato un conto corrente naturalmente per l'assistenza ai profughi ma anche azioni di emergenza e di aiuto umanitario in loco. E' chiaro che c'è una parte che a me preoccupa di più che è quella relativa all'invio di armi, non solo e non tanto per le questioni logistiche che pure giustamente Negri prima ricordava, ma perché le armi non sono mai la soluzione a mio avviso, io vengo da una cultura di disarmo e da una cultura pacifista, è chiaro che mi pone davanti a un dilemma etico che è evidente, perché in questo momento si sta, la nostra speranza di vedere finire questa aggressione è anche dovuta, come si diceva, alla resistenza che stanno dimostrando gli Ucraini in quel territorio e sappiamo bene che sono loro stessi a dirci, attenzione, non aiutateci soltanto con le mobilitazioni perché qua ci stanno sparando addosso, quindi è un dilemma etico che non voglio sottovalutare, dopodiché ricordiamoci che è difficile preparare la pace con altre armi, da questo punto di vista certamente per chi ha una cultura come la mia questo è un elemento di grande preoccupazione rispetto a quello che è stato approvato ieri, anche perché ho l'impressione che Putin stia cercando espedienti e anche la reazione di ieri dell'ambasciatore russo, se avete letto tra le sue parole, il fatto anche di una velata minaccia, forse neanche troppo velata quando dice i cittadini europei saranno risanuti responsabili, quindi la preoccupazione è tanta, io ho anche speranza che l'Unione Europea abbia un risveglio anche nella compattezza che Cattaneo citava, che è vero che è un elemento che in questa fase è estremamente importante, ma soprattutto che ritrovi anche una sua autonomia con una politica estera davvero comune nell'interesse europeo e ritrovando anche la sua missione di uscire dalla logica dei blocchi di influenza che si scontrano, perché altrimenti non riusciremo a farci davvero portatori di un ruolo che è davvero di pace e non magari appunto di rischiare di vedere un'escalation ulteriore di questo conflitto che ricordiamo, lo stanno pagando già amaramente soprattutto le popolazioni civili e avete fatto bene a ricordare che anche in Russia ci sono migliaia di cittadini che stanno protestando in questo momento perché non è la loro guerra e che vengono arrestati a migliaia, è solo domenica circa 4.500 arresti, è notizia di ieri che Putin abbia fatto chiudere altre due radio indipendenti, quindi è chiaro che lì lui si trovi molto isolato e chiudo dicendo che una cosa che ho trovato molto interessante ieri è il dialogo tra il ministro degli esteri cinese e quello ucraino i cui toni erano lamentiamo questa aggressione, chiediamo a Ucraina e Russia di sedersi al tavolo e negoziare verso la risoluzione di questa guerra quindi ecco è molto isolato Putin, ha messo in difficoltà anche i suoi alleati più stretti e quindi la speranza è che davvero il dialogo di oggi per quanto sia una speranza flebile, diceva giustamente Negri, possa essere un passo che vada verso un cessate il fuoco anche se Putin si aspetta una resa. Ci arriveremo poi per quello che dicevate sul fatto che ci sono delle rivolte, soprattutto da parte dei giovani, si ipotizza anche come via di uscita anche quella di un golpe, ma lei appunto a maggior ragione di solito poi quando c'è un golpe si parte dal basso, ci deve essere un movimento abbastanza forte dal basso, però volevo dirvi che...